Mia figlia il 17 di novembre ha avuto un'emorragia cerebrale dovuta a una malformazione congenita. Inizia così il racconto di una mamma che ha visto sua figlia di 14 anni rischiare la vita per poi essere salvata dai medici dell'Ulss 2. La famiglia vive a Tezze sul Brenta e dopo aver intrapreso un percorso con un logopedista è diventata necessaria e urgente una visita oculistica. E qui sono iniziati i problemi con l'Ulss 7, con le attese e come ci racconta la mamma della 14enne con il suggerimento di rivolgersi ai privati. C'era una tempistica da rispettare che erano i 30 giorni e quindi sono passati due mesi. Il medico che ha fatto la visita oculistica mi ha detto guardi signora mi raccomando prenda di nuovo contatti con il CUP di Bassano e faccia fare questa visita oculistica perché per lei è importante. Siamo andati, ci hanno detto che la lista è troppo lunga, che ci sono altre persone che hanno lo stesso problema e di trovare altre soluzioni con il mio medico. Al Cale ho detto quali sarebbero le altre soluzioni che devo andare a pagamento e mi ha fatto capire di sì. Il problema di mia figlia è un problema molto grave e io devo convivere ogni giorno con mia figlia che mi dice male l'occhio, male l'occhio però non riusciamo ad avere insomma questa visita. Ho addirittura chiesto almeno fatemi capire che tempistiche ci sono, un mese, tre mesi, otto mesi e lei mi ha detto signora può essere anche un anno. Avete capito bene, un anno per una visita oculistica urgente a una ragazzina di 14 anni che ha avuto un'emorragia cerebrale. La soluzione? Pagare la visita. Io non lo trovo giusto perché già abbiamo fatto altre visite a pagamento dove si pagano parecchio. Comunque siamo una famiglia di 5 persone. Dopo quello che ha avuto, c'è un evento molto molto grave e che continua a dirmi mamma o male, mamma o male, mamma o male, ok mi viene a dire va bene andiamo a pagamento, facciamo questa visita però non è corretto, non è giusto, non è giusto perché il problema è grave.